ecco siamo pronti per il collaudo scusa come si sfonda di qua e becca l'acqua a me oh 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 vai vai non è una fossa razzega eh! guarda quello! guarda quello! ma che bella la piscina! immagini che si salta dentro si può salta dentro ma vai a s***** ma f***** no? piano piano ariel ma come sembra il mare? la piscina non si è mosso per niente f***** sta nuotando! guarda ariel si nuota la piscina non ha fatto nessun movimento com'è? com'è? è bella vai luigi ma vai no c'è mutante c'ho lascia stare devo andare dal papa io vai nì vai il papa ti protegge io no perchè il papa ti viene da me il papa ti protegge dai vai a f***** no no stop? si 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 si